Mi chiamo Federica, ho 19 anni, un sogno del canto che comunque è un sogno che ho da piccola, è una passione, per me è tutto, è qualcosa che mi accompagna da quando sono piccola e da allora ho capito che il canto era qualcosa che mi piaceva, che sentivo proprio scorrere nelle vene. Allora, la mia cantante preferita è Cristina Aguilera, quindi un genere proprio americano, sento un trasporto particolare quando canto determinate canzoni. Per me il muro del canto è un blocco personalmente perché sono un po' ansiosa, quindi comunque al di là del pubblico, delle persone che comunque potrebbero ascoltare una mia performance, è proprio l'impatto che c'è, probabilmente anche dovuto da pochissime occasioni che ho avuto magari per esibirmi. Quindi ho deciso di esserci a questa audizione, quindi anche tu fatti sentire.